Vediamo ancora Ezechiel Sirigliano, pallone dentro per i turbi, lo sfiora verso Caccia che prova a girarsi, calcia, deviazione, sta arrivando Romulo, posizione regolare di Romulo, no, fuori gioco. Aspettato che proprio gli arrivasse il pallone come vuole la nuova normativa, il collaboratore numero uno Gian Lattini, è poi alzato per l'irregolarità di Romulo sul tiro di Caccia, fuori gioco e qui vediamo, esserci, è quella di Zapata, non è stata una giocata, ma è stata solo una diversione. Comunque più coinvolti i turbi in fase offensiva, non ha paura.